Ehi ragazzi! Siamo pronti a pullare! Il maestro in Giappone! Siamo pronti! Nuovi personaggi! Ma non ho detto settimo anniversario! Voi mi dovete aiutare per forza che non ci capisco un cacchio! Let's go with the pullate! Ah, dopo 3 summon c'è la free! Let's go con la prima! Credo che qua diga sì! Andiamo! Buono! O è una merda perché è arrivato Majin Buu? Com'è? Una merda! Banner? Come è banner? Ha detto un'altra cosa! Rilasciamo! Ah! È banner! 2! Potevi diventare di terzo! Oh che carino! Ok! C17! C18! Banner! Bello mio! Krilin fondamentale direi! No! Non ha detto devo cacare! Non ha detto devo cacare! Raga! Poi c'è tuberanza! Ah! Devo vedere dopo il pull! Ok! Mamma mia! Era proprio lui che c'è! Ma perché c'è sta cosa rosa che... Vabbè! Lasciamo bene! Oh! Buono! Catte! Oh no! Buonissimo! Buono! Siumma popolo! È buono! Abbiamo sculato! E let's go! Il maestro inizia così! First pull! Buono! Minghia! Qua ragazzi è l'inverso! Voi insegnate a me a giocare a Dokkan e mi dite personaggi! Nuovo format! Buono! Siamo avanti! Oh 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 oh! Goku Ultra Instinct! Che culone! Buono! Ci sta! Tutto sto casino! Tutto sto casino! Buono pure lui? No! Buono quello di prima! Ah! È schifo! Ah! Goku Wii parlavate! Da merda! Vabbè! 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 Va bene! Va bene! Va bene! Ci proviamo! Let's go! Second pull! Voi avete fatto la vostra scelta, belli miei! Si va! Le animazioni me le dovete dire sempre voi, se so buone o no! Lo adinga! Oh! È oro la scritta! Tiriamo giù? Goloso? È goloso? Mi scappa da cagà! L'ha detto, raga! Ha detto che gli scappa da cagà! Spaggito! Fusion! Ha detto mi scappa da cagà! Calma! Maestro delle... Salve kaito! Questa merda? Insomma! Insomma! Andiamo avanti! La fregna! Non ci manca mai! Dice buono blades quello! Buono? Sbocco! Non so a chi credere, raga! Broly! Quello che ho detto che era figo! È del banner! PG banner! Ma era figo! È figo ho detto! Non ho detto che è forte! È figo! Andiamo a tuberanza! E gli capitano sempre i personaggi... Ah, è buonissimo! È buonissimo Broly! Va bene! Quindi è buono Broly! Chi è buono? Broly è buono! No! Allora! È una merda! Dobbiamo... Due... Tre SSR! Un po' merda! No schifo! Devo pagare... Broly Animation! Avete votato sul... No! Me... Me... Merda! Merda! Merda, raga! È merda! Questo è merda! Questo è merda! Questa... È da... Chiamo il cazzo di avvocato che hai! Denuncialo subito! Questa è una merda! Questa è una merda! Non è buono quando diventa di terzo livello! Belli mie... La frrrresca con i cuoricini! Bella mia! Via! Ah, sì! È la merda! Ok! Quindi noi velocizziamo un po'! È figa! C'è la figa! C'è la figa! È shaft? Vabbè! Che figa! C'è figa! Eh, Krillin non poteva mancare! Tuberanza! Oh! Eccolo! Eccolo proprio lui! Proprio il nostro tuberanza! Proprio lui! Sì, 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 sì! Oh! Occhio! Bardak con il frutto! Una merda, raga! E ora è free? O ne abbiamo un'altra? Pezzo di merda! Vinde il no! Questo è free? Ok, è una merda! Me la confermate che ha sensazione o ragione che è una merda? Vai, l'ho rimesso! Ragazzi, è un meme! Lo so che è Tarles! È un meme! Prendo per culo tuberanza! Che si è sbagliato una volta! Guarda! Bardak con il frutto! Che c'era su Xenoverse! C'era Tarles! Con appunto il frutto in mano! Era chiamato Bardak con il frutto! È un meme, ragazzi! Lo so che è Tarles! Sono un troll! Bello mio! Vi trollo tutti! Vi ho tutti trollati! Ma lo so che è Tarles! Non mi uccidete! Belli miei! Ve lo ricordate quando ha detto che era Bardak con il frutto? La metà dei punti sul no sono i miei! Un gulo! 160.000 sul no! Mamma mia! Il sì! Quanto vince se li troviamo nella free! Occhio alla free! Occhio alla free! Qua chiamo il potere del sommo! Brawly Animation! E qua dobbiamo attingere a Giuseppone! Che ci dia una mano con la sua Brawly Animation! Fai vedere! Ok! 113.000 sul sì! 14.000... Cioè il contrario! Sul no! 14.000 sul sì! Tranquillo Lucone! Ben arrivato! Bello mio! Brawly Animation! Era particolare! Era strana! È partito un audio tutto strano! È una merda! È una merda! A quanto stiamo? A 150! Giusto? È la caga proprio! Mi scappa da caga! E questa è quella mi scappa da caga! Uno! Due! Sento d'odore di lotta! Sento d'odore di lotta! Bello mio! Sento d'odore di fogna! Questa è un po' Bello però! Mi piace! Mi piace! Super Bu! È bellissimo! Il mi scappa da caga! Dice che chiaramente mi scappa da caga raga! Ehi! Sali su sta roccia! Sali su questa di roccia! Bello mio! Non c'è niente! Ma che è sta roba? Monnetta! Puzzone! Aiutatemi! Papalo! Cattamelo dovete di voi! Bello mio! Carino! La merda! E siete! Va bene! Le prime 150! Primo giro! Una merda! Grazie!